Dunque, come fare per condividere il materiale con i ragazzi? Allora, vedete che c'è la voce Crea, quindi si clicca su Crea, si può creare un compito, un compito con quiz, una domanda, postare del materiale, riutilizzare un post e creare un argomento. Allora, partiamo dall'argomento, partiamo dal basso, io posso decidere di voler dare dell'argomento sull'analisi logica, per esempio, quindi creo l'argomento analisi logica e in questo macro argomento posso aggiungere del materiale, che può essere, ecco qua, o materiale, o un materiale che io ho caricato sul mio Google Drive, o un link, quindi se voglio aggiungere per esempio un video di YouTube o un qualsiasi altro link di un sito per fare un qualsiasi lavoro, un file, semplicemente, o direttamente un video da YouTube. Quindi, una volta che io, per esempio, voglio, non so, andiamo a vedere un qualsiasi file su Google Drive, per esempio uno di questi video che sto facendo, aggiungi, viene aggiunto qua sotto, posso descrivere di cosa si tratta oppure no, vedete che qua mi fa scegliere per matematica tutti gli studenti, oppure se lo deseleziono posso anche scegliere a quali studenti inviarlo, nel mio caso specifico adesso ne abbiamo aggiunto solo uno, quindi è chiaro che voglio metterlo sotto la voce analisi logica, perché magari appunto è un video che mi serve per spiegare l'analisi logica, e a questo punto posso pubblicarlo. Eccolo qua, materiale, prova. In questo modo tutti gli alunni della mia classe potranno vedere questo materiale. Oltre al materiale posso assegnare un compito, il compito che può essere, non so, grammatica, da pagina 2 a pagina 3. Posso darlo in questo modo, oppure anche per quanto riguarda il compito posso aggiungere un file. Una volta fatto, quindi analisi logica, lo assegno anche qui a tutti gli studenti, se voglio posso anche assegnare dei punti per dare poi un voto, dare addirittura la data di scadenza, quindi dire per quando sarà questo compito, e anche qui mettiamo nell'argomento creato analisi logica, se voglio posso anche aggiungere la griglia di valutazione, quindi per il momento assegniamo questo compito, quindi questo è un compito, questo è del materiale. Posso anche creare un compito con quiz, tramite l'applicazione moduli Google, quindi se volete poi assegnare delle domande tramite un quiz, utilizzate questo, vedete che mano a mano aggiungete le domande con le opzioni, e una volta che i vostri alunni lo avranno compilato, Google ve lo correggerà automaticamente, in quanto vedete che si può dare anche, selezionare la chiave di risposta corretta, quindi diventa anche molto comodo nel momento in cui bisogna andare a correggere, perché diventa un lavoro già corretto. Anche qui invio, invia modulo, e torniamo a noi, l'abbiamo inviato,